il coro femminile si sta preparando qui abbiamo delle streghe ecco ti sto facendo un video per operaclick perché stasera operaclick sarà nel backstage buonasera a tutti secondo lei maestro banco è buono come sembra non credo cioè nell'opera sembra buono perché poi è il martire quello che viene ucciso però secondo me è fatto un po della stessa pasta di macbeth questi generali che avevano un potere e quindi lo sfruttavano anche questo potere in qualche modo poi c'era questo concetto medievale della potenza del grado quindi non credo sia un buon ragazzo però figura come martire perché lui alla fine quello che muore ingloriosamente ma certo la vedremo dopo maestri ci fai ci fai un video e poi vi disturberò durante tutta la recita preparatevi peggio di una strega apri la bocca per peggio di una strega ma siamo serenissimi e lui è molto austro-ungarico infatti io sono sempre rinunito che il mondo si è fatto a rovescio poi la gioventù sui giovani è sprecata eh cosa diceva Oscar Wilde ma si è la gioventù è un bene troppo prezioso perché si è adatto ai giovani vero? stiamo facendo dei ragionamenti molto profondi ma non so perché mi compiaccio mi compiaccio questo è sangue diciamo vedere com'è bello denso denso profuma un po' di fragola profuma di fragola io non oso assaggiarlo non oso assaggiarlo ma però è abbastanza realistico direi che è bello realistico si 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 sangue adesso quando puoi vi eh si assolutamente ah beh oggi non si assaggia ci andiamo eh ora sappiamo la funzione eh c'è il nastrino hai visto c'è la giocatrice di pallavolo no? che c'è il nastrino quello della nazionale non lo so perché io non noi non le guardiamo c'è il nastrino ne guardiamo solo i tiramisù e basta c'è la missione di cucina io invece guardo su internet gli chef che fanno dei piatti no? che facendano che fanno vedere come fanno dei piatti poi cerco di rifarli e naturalmente ma perché a te piace? non ce n'è neanche uno che viene uguale ma a te piace? mi piace sai quando sono via finite le prove così magari mi metto a cucinare un po' passo il tempo tutto pur di non studiare insomma mi diverto a fare qualche piatto solo che insomma sono un neofita insomma i risultati si fanno attendere molto laborioso cominci a diventare banco banco di scuola banco di scuola che roba non finiamo più caro Cristiano finché si parla della crana di parmigiano va bene vuol dire che va bene tanto per strammatizzare grazie a tutti 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 grazie a tutti